Eeeh, bello a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro LeBegno86, buon sabato 16 dicembre a tutti, bedazzi, come dico io, nuovo video stesso gioco stiamo sempre sul pezzo con i football 2024, se vi fa piacere rimanete sintonizzati sul canale perché tra poco si parte, forse obiettivo promozione, due partite, dobbiamo fare 4 punti, otteniamo la promozione, forse se azzecchiamo il calcio di rigore con il buon Castolo, vecchia gloria, arriva il nuovo pupillo, il nuovo Neymar, non ci perdiamo in chiacchiere, regà, niente spazio, Grazie, saluti perché il tempo stringe, siete dei grandi dal primo all'ultimo, grazie mille per il supporto, si parte, campionato Dream Team, VAMOS! Olè bedazzi, finito di travagliare, mo mo, playstation 5 appena accesa, bonus d'accesso al giornaliero, ci pigliamo tutti il che è nostro, 20.000, 10.000, ok, altri 30.000 GP che li teniamo lì in casaforte, allora, riscattiamo tutto, come di conseguenza, il caffettino, raga? E sigarettino, anche se è finita si comincia, allora, non vorrei aver detto una minchiata nell'intro, ma forse se segniamo il calcio di rigore con Castolo, arriva Neymar che, cioè senza neanche passare dal via, lo maxiamo subito a bombazza e lo proviamo, nel frattempo qui riscattiamo tutto. Allora, ok, torniamo indietro, gioco bonus, 1-2 ne devo tirare ancora, mi ricordo ragazzi, ho tirato i 6, 4 fatti, 2 parati, allora, parte Castolo, sta a vedere che me lo para, eh? No, no, la butta dentro, lui non sbaglia, e quindi, attenzione, calcio di rigore segnato, rimanenti 3, sta a vedere che arriva proprio lui, cezionale, direttamente dal Brasile che schillava come i pazzi? Sì, è arrivato, regà, è arrivato anche la corte del vostro Alebbene 86, Neymar Junior del Santos, ecco il tuo premio, vai, allora il titolo del video sarà proprio questo qua, proprio lui, allora, Neymar Junior gioca bonus premio giro, premio primo, vabbè, ok, adesso il prossimo chi sarà? Vabbè, non ci interessa, non ci perdiamo in chiacchiere perché è arrivato lui, il mio pupillo che mi segue, che mi conosce, sa, quindi andiamo, la mia squadra, regà, i giocatori, lo andiamo a confrontare subito con questo, eh, questo qui è quello vecchio di due anni fa, del day one di football, del pack a pagamento 20 euro, c'era lui e Neymar, c'era lui e Messi e io, ovviamente, il mio cuore è andato dalla parte di Neymarinho, dove cazzo sta? Allora, cosa parto? 83, se non dico minchiate, 83, ma sono un coglione, regà, se non lo riscatto, cioè, se non lo riscatto non ce l'ho in squadra, eh, vedi, minchia, regà, sono la frutta, sono la frutta, regà, allora, hai ricevuto Neymar, eccolo qui, eccolo qui, 83 di VGG iniziale, punta attaccante di rientro, Eh, punta attaccante di rientro, vediamo un po' se worka, adesso ce l'abbiamo, adesso ce l'abbiamo, è tutto nostro, allora, 83 abbiamo detto, 81, 82, eccolo qui, regà, 36 livelli di crescita, adesso faccio una build fotonica, Adesso lasciatemi ragionare tra me e me, eh, voi seguitemi, allora, aumenta il livello 28, questi qui sono limitati Ok, con 1000 ci arrivo, con 2000, con 3000, ok, mi risparmio 1000, mi tengo il 4000 Allora, i 36 di livelli, i 36 livelli li abbiamo dati tutti, è maxato al massimo Torniamo indietro, facciamo, facciamo la build automatica 96, in game va 99, 100, forse prende il più 4, quindi va 100 come l'altro Però, allora, sappiamo benissimo che lui è punta Potrà fare anche l'SP, potrà fare anche il trequartista Io ho intenzione di fare una cosa Siccome punta, attaccante di rientro e non regista creativo, ho intenzione di provarlo come Punta centrale, punta centrale Il suo posto all'out di sinistra lo prende Vinicius Junior, perché è altrettanto schillato Quindi lo devo fare fotonico a livello di finalizzazione, di skill e di accelerazione Allora, c'è i piedi quadrati, me la deve buttare dentro, non mi deve fare la giocata né niente C'è la palla, se mi entra la skill, deve buttarla dentro Quindi, destrezza, controllo del corpo e accelerazione, comportamento offensivo Già parte di default, che sono ottime statistiche offensive per una punta Soprattutto col comportamento offensivo 90 di finalizzazione Allora, forza arti interiori Forza in aria Salto Minchia, è fatto di marzapane però, regà Togliamogliene ancora Tanto Prendiamo due punticini qui Poi, togliamo Un po' qui, di velocità e un po' di accelerazione E gli ridiamo qui In dribbling, controllo palla e possesso stretto Finalizzazione non posso darglielo, gliene tolgo un in dribbling e glielo diamo in finalizzazione 96 rimane 96 rimane C'ha troppo i piedi storti però, regà C'ha troppo, posso darglielo solo in passaggio, mi sa E glielo diamo in contatto fisico e salto Passaggio, dai È troppo poco, così 96 Questa qui è la mia build Vediamo poi In campo, col booster Come diventano le stazze E lo paragoniamo all'altro, regà Secondo me è più forte l'altro Però Magari è buggato Allora Torniamo indietro Schema di gioco Al confronto Eccolo qui L'altro è qui Allora, a sinistra è il bustato A destra è la leggenda Con i capelli biondi Comportamento offensivo va a 96 Controllo palla E l'altro L'altro è fotonico, regà Passaggio raso terra Passaggio altro Finalizzazione 93 82 Calcio da ferro è Velocità È più veloce Il tiro a giro è lo stesso La potenza tiro È un po' più scarsa Quello del bustato Salto 70c Controllo del corpo Più agilità Resistenza un po' più resistente Allora Devo provarlo da punta, regà Non ha forma incrollabile Forma è normale Per il resto Per il resto le skill Sono praticamente identiche Faccio così, regà Faccio così Lo proviamo Al debutto Qui Poi Vinicius Qui Però punta Però punta Vediamo se mi work Lui opportunista E lui è attaccante di rientro Lo lascio libero di CPU Proviamo, regà Allora Andiamo L'attesa è finita Si comincia Al debutto ne è marbustato La situazione Sabato È questa Mi sembra che devo fare 4 punti in 2 partite 4 punti Sì Se riesco a farlo in 2 partite Subito è bene Se non abbiamo ancora 6 a disposizione Siamo a punteggio pieno Inutile perdersi in chiacchiere Vamos Primo sfidante di giornata Sono curioso di provare Quei nei mari Con vie centrali Vediamo se con quello stile Attaccante di rientro Torna troppo E si peste i piedi Col giocatore chiave Che il giocatore chiave Si inserisce Se l'attaccante di rientro Mi viene indietro Diventa un paciugo Regà Allora 3 tacche no però 3 tacche no Konami no Konami anche no 3 tacche Dai Romperi il cazzo Almeno 4 Vediamo Se no devo chiudere l'app Regà Dai Konami 4 dammene Fammi fare una partita Che poi non è detto Che a volte 4 lagga E magari 3 fluido Vediamo Dai che devo provarne i mari 3 tacche La starto lo stesso Dai La starto lo stesso Perché ho voglia di giocare Eh ho visto Va bene Dai anche lui è in quarta È in casa Noi siamo fuori casa Quindi è da destra a sinistra Scarsenal Fa il tifo per il tuo Alle bagni 86 Vamos Allora Si presentano così Vediamo se è in forma di grazia Il buon Onei In versione scugnizzo Sta bene Sta bene Ok Stanno tutti bene Eh c'è un Guardiol C'è un Militao Showtime In forma di grazia Soffia il posto Pau Torres Lui si presenta Ok CLS CLD Larghissimi Non so se mettergli la marcatura Dei terzini Regà Perché vedo Allan dal centro Magari è un crossatore Quindi Prevenire è meglio che curare Si dice Marcature Sacrifichiamo i contropiedi Marcature DC Sul suo CLS No Militao Che cazzo Combinato Regà Madò Militao L'ho messo centrale Hernandez Sul CLS E cancelo Sul CLD Ok Difensivo Cancelo Difensivo Vera Niente contropiede Ne ha Messi Ne ha Vinicius Vediamo come gira Regà Vamos Vediamo se riusciamo ad arrivare Subito in terza Con due partite Una vittoria Un pareggio Proviamo E' che adesso a me Mi viene voglia di skillare Regà So già Vamos Tacca bassa Kickoff Che batte lui Tre tacche C'ho già paura Attenzione che me la mette sulle skill Neymar Forca troia Fallo Viera cattivo Viera subito cattivo Fa sentire i tacchetti Sul tallone D'Achille Sul tendine D'Achille Non sul tallone D'Achille Attenzione ad Alex Prendiamo Immanuel Alta Corpa all'indietro Palone alle stelle Del Piero Che spolvera il pizzetto Non va Dai Ale stai serio Non fare il coglione Che la perdi Poi butti giù Tutti i santi Messi Bellingham Che attacca E' partito Attenzione ad Alex Attenzione Neymar E' pertugio Vinicius Ok Attaccami la profondità Unai Non passa Vinicius Fraseggio tutto Brasileiro E' partito Attenzione Colpo sotto Porca Proia Sti pallonetti Come sono Nerfatile Bene Neymar dentro Vinicius Però Eh si Le tre tacche Magari un po' Influenzano Sono un po' Fermi Soprattutto sul primo Controllo Dai Vira Colpo di lag Adesso L'ho dovuta Startare per forza Raga Dovevo chiudere L'applicazione Immanuel Via Rimane ancora lì Ancora Mato 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 Vai Cancello Vai Alziamo le tacche La prima Attenzione che è partito Mato Equilibrato Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Lagga un po' Regà A me Salta Via Via E' martutto solo Non ci può arrivare Attenzione Neymar Mantona Neymar E' partito tutto da lui Regà Pedri Autoblock Neymar Neymar Marca puttana Patrick Bravo Patrick Bravo Neymar Ci arriva Non ci arriva Ci arriva Guardiol Beh Neymar Bravo Neymar Bella A rimorchio Di prima Ma va agli incontro Pedri però Che intelligenza artificiale Di merda Fuori gioco Mi è andata bene Regà Mi è andata bene C'ho tre nani adesso Ancora più di prima La gioco qui corta Cancel Neymar Neymar Fraseggia Entra 1-2 1-2 Non vengono più Attenzione Neymar Numero Gioca Bonito Non riesco ad entrare Tienilo Madonna che chiusura Mi è volato letteralmente Sugli orecchie In mano al miracolo Miracolo Come migaso Occhio però Il bug adesso Prendiamo i centimetri Di delict Lui Dai che non può Far la sponda Via Così Subito Neymar Un po' i piedi quadrati Si è visto No volevo di nuovo Di qua Bravo Patrick Madonna Tutto chiuso Perché sei anni Per fare un passaggio Siamo in quei minuti Bastardi Siamo in quei minuti Bastardi Per quello Per quello Per quello Adesso L2 Basta Anche un Sesta divisione Che tiene schiacciato L2 Il gioco Lo favorisce Allora Andiamo a secondo tempo La partita dopo La partita dopo Chiudo l'app La riavvio Così mi da Quattro attack Almeno è più fluido Si spera Fallo eh Ok 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 Il pareggio ci serve Però Attenzione la prima che entra È una gabbia È una gabbia È una gabbia Ormai È una gabbia Reparto difensivo È una gabbia Bella Bella Bravo brothers Bella Al miracolo Immanuel Eh L'abbiamo preso L'abbiamo preso Dove cazzo era la mia difesa Regà Dove cazzo era la mia difesa Madò Che cpu di merda Che cpu di merda Dove era la difesa Regà La prima croc Non la prende più Ancora Oh Dove è la difesa Regà Cosa sta succedendo Perché Perché così dal nulla I buchi Le pratterie Eh Vabbè Dai E che manca una vita Tutta di là Ok E anche lui Mi sa che Aveva avuto problemi Qua con la fase difensiva Numero Numero Dai un rimpallo Tutta di là Immanuel Miracolo Ancora Miracolo Però Aveva fatto Un liscio Militao Regà Puttana Eva Non gliela lasciare Lì Vai Messi Maddona Che contropiede Fotonico Regà Ma questo Vola Centrale Di lega La gioia Del gol Che parata Il portiere Ha risposto presente Quando c'era bisogno di lui Intervento pregevole Palla in avanti Verso compagno Vai Da Da Sto L2 Di merda Madonna Come l'odio Ragazzi Come l'odio Ma dove è la difesa Allora Proviamolo così Da punta qui Come se fosse l'altro SP Che movimenti fa Ma lì ci va Regista creativo Lì ci va Regista creativo Dici va Regista creativo Rega Va Peo opportunista Come Vinicius Vinicius è più Skillato Niente Se gioco con questo Neymar Devo giocare così Rega Se gioco con questo Neymar Ma non mi piace Centrale L'attaccante Di rientro Mi piace L'opportunista Quindi mi sa Che ritorno All'altro Oppure lo posso Provare Trequartista Anzi Fammi fare così Fammi fare Così E fammi fare Così Però mo l'ho livellato Con i piedi Quadrati Trequartista Con quei passaggi Non va bene Trequartista Con i passaggi Con i piedi Così storti Non va bene Vediamo come Worka Tanto la terza Divisione Dovremmo Riuscire ad arrivarci Abbiamo ancora Sei partite a disposizione Se non le faccio Adesso Quando le faccio Le provo In D3 Che sarà Già un inferno E' già in inferno La quarta Figuriamoci La terza Proviamolo Da trequartista Regà Bello Sto passaggio Mi è piaciuto Colpo di lag E' in automatico Me l'ha sculata E' partito In manual Meno male che l'ha tirata fuori Ci ha messo sei anni Per switcharmi I portieri in manual Portala Portala Piedi Portala Guardate cosa ha tolto Cosa ha tolto Errore Bravo Ney Vaio L'automatic In automatic Il difensore Vai Patrick Provala C'è sempre qualcuno Davanti C'è sempre qualcuno Davanti Sempre Ma Neymar Al debutto Cos'è Ha fatto fallo Il pupillo Ha fatto fallo Minchia che taglio Da ultimo Demo i cani Che c'ha Prendila bravo Vinicius Di Rabona Qua ho esagerato Questo è passato Se mi dai pedri Vado Sbagliato Rega ho sbagliato Devo fargli la crocca Beh che deve rientrare Madonna mia Ma dai Ma dai Ma dai Ma non ho parole Guarda 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 Che gameplay Di merda Che gameplay Di merda Madonna Mi sta volando Sugli orecchie Che schifo Hanno combinato Rega Guardate Questo Che piedi Che c'ha Lo prendiamo Madonna Meno male Che sarei mangiato Che schifo Allora Vediamo se riusciamo A fare la vittoria Così ce ne andiamo In terza divisione Come una sigla Madonna Ma che gioco Schifoso Che hanno fatto Rega Costa 3.2.0 Non riesco Proprio ad abituarmi Allora Ci pigliamo Come mille Mille esp Poi magari Poi magari Potevano influire Anche le tre Tacche Ma tanto Non c'entra un calzo Mentre era fluido E' proprio Rimpalloso E' proprio Tutta un'intercettazione E' proprio 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 Schifo Allora Questo qui era Un'attuale tre Più alta Quattro Secondo me Che aveva troppo Script a favore Ok Esatto Abbiamo capito Che con questi player Qua Ti deve fare Impazzire Allora Rega Andiamo alla seconda Partita Di giornata Vittoria Vittoria Significa Promozione E vi saluto Se succede Se perdiamo Pareggiamo Promozione Rimandata Testiamo ancora Neymar Anche se non mi ha Fatto impazzire Ma Immaginavo Già Immaginavo Già Perché c'ha uno stile Che non 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 mi piace Adesso lo provo Sull'auto di sinistra Come regista creativo Da tre quartista C'ha troppi piedi Spasati Ancora tre tacche Niente Dai Non posso giocare Oggi Oggi non posso giocare Raga Chiudo l'applicazione E ci si rivede Prima entrava Non devo più farla La seconda Una volta che mi entra La prima La seconda Non la devo più fare Non è entrata Neanche la prima Chi mi dice Non si passa No Ha ragione Ragione Che è tutto chiuso Manda al bar La seconda crocca Non me l'ha presa Di nuovo Lì c'andava la crocca A rientrare Qui sbagliato tutto Bravo lui Difesa altissima Raga Difesa altissima Immanuel Presa 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 Eccellente Il portiere Sembrava Non avesse possibilità Di fermarla Invece ha evitato Il peggio Così Passa Neymar Il mancino Non va Il mancino Non va Ancora anticipato Ancora anticipato È passato Ma perché ce n'è sempre tre Perché ce n'è sempre tre Regà Vai Neymar Marlotta Ma cazzo ha fatto Attò Ma che paciugo Che rimpalloso Che rimpalloso Ma era per pedri Puttana madonna Era per pedri Poi mi dicono Perché bestè Ci prova Non va Ci prova Non va È passato Sono uscito Malissimo Tutto malissimo Tutta di là Meno male Va Meno male Che era messo male Col corpo Gliel'ha data A cazzo di cane Digno Ma la confusione È tutto chiuso È tutto chiuso Presta Presta fortissimo Presta fortissimo Ancora Ancora era per pedri Mi sbaglio a tutti i passaggi Perché ho già fatto Quattro vittorie Quattro vittorie Un pareggio Quindi manca pochissimo Per la promozione Mi deve portare Alle ultime partite È così Devo essere più bravo Io dello script Devo essere più bravo Io dello script Dai Centrale Non c'è nessuno Salite Dai che non ho neanche Le tacche basse Salite Niente Niente Non ho neanche il tempo Di stoppare palla Perché vola letteralmente Meno male Va solo 1 a 0 Solo 1 a 0 Andiamo al secondo tempo Regà Andiamo al secondo C'è solo una squadra in campo Non riesco a fare un cazzo di niente Questo qui non è un ex di 1 Questo qui è un attuale 4 più alta 3 Mi gioco i coglioni Regà Non passa Ripallo Niente 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 Dagliela bene È bella No 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 Niente Non posso skillare Non posso skillare più Mi hanno tolto la cosa più bella del gioco Per me le skill Vai Neymar Vai Neymar Sì Neymar Sì Neymar Eccezionale Che brutto Ma hanno nerfato le skill Non è che hanno nerfato le skill Hanno nerfato la CPU in automatic Della difesa L'ho sbagliato io Uh messi in anticipo di testa Messi in anticipo di testa Pazzesco Tra un po' faccio il patatracca raga Pedrito Patrick Niente Si è fatto ad anticipare Patrick Così Guarda Neymar di qua Sbagliato Subito Di prima Perché Dio Che cazzo è questo A Kimi mi è volato sulle orecchie Letteralmente Bella Sì di prima Di prima Perché non tiri di prima Perché non tira di prima Andiamo 2 a 1 Scarsenal Subito Bella Vai Bellingham Vai Bellingham Eh sì Vanno il doppio Vanno proprio il doppio Sì che è entrata Autoblock Passa fallo Fallo su pedrito 74 su cronometro Allora così siamo promossi Così siamo promossi Lui va in pausa Non mi dispiace Sto Neymar L'altro è più forte Me ne accorgo subito Me ne accorgo subito E' il mio giocatore Neymar L'altro Neymar Registro creativo E' più forte Poi se non ce l'avete O se avete Lo showtime Questa qui è la seconda Vabbè la prima versione Più forte Secondo me Che l'ho provata Col socio in coppia E' la versione Big time Di Neymar La seconda versione Più forte E' la mia versione Questa è la terza Versione più forte Perché io le ho provate Tutti Ho sculato anche Il player of the week Allora lui è pronto Andiamo Ciao mo Finisco di registrare Stai registrato? Yes Ciao Ciao amore mio Allora Andiamo da Bellingham Così Così Dai Vai Bene Guarda te Questo come se Mi chiacca E se entro così No no Non ti fa interrare Non ti fa interrare Patrick Bravo Patrick Numero Fotonico Ancora E non entra Guarda te Guarda te che bolgia Che ce n'era Regà 4 4 di colpo Lì Chiuso 4 regà 4 Oh sono scivolato Da che deve rientrare Bravo Cansei Vai dietro Via Cerca Anche se non abbiamo nessuno Campanile Nemar dietro 87 Bellissima Niente In automatico Regà In automatico In automatico Occhio adesso Vai dietro Doppia tacca giù Più lontano che puoi E la lascia a centro campo E la lascia a centro campo Via Quadrato Dai che ce ne andiamo in testa Terza Vaffanculo Buona Buona Allora Questo qui era Un Attuale 4 Più alta 3 Sicuro Allora Hai raggiunto la promozione 10.000 4.000 Espe Ok Vediamo se c'è Azzecco No Più alta 2 Va bene Va bene Il nostro L'abbiamo fatto La promozione L'abbiamo raggiunta Col nostro Scarsenal Se siete arrivati Fino a questo punto Vi ringrazio Vi saluto E vi auguro Un buon weekend Ci vediamo Con un nuovo video Sui football Ciao 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 Bedazzi Qui dai Qui è Qui è Qui è Qui è Grazie a tutti.